Pillole di non solo suoni, la storia della musica passa da noi. Ed eccoci al via, alle prime note di un nuovo viaggio, di un nuovo brano per raccontare in musica un artista, in questo caso ancora contemporaneo, nonostante le primavere e i già numerosissimi successi. Oggi infatti parliamo di Cat Stevens, di cui ci piace poi rispolverare una canzone come Wild World, il mondo selvaggio che ha ormai oltre 50 anni, esattamente 51. Nel frattempo il musicista britannico non ha perso occasione per continuare a esibirsi, come ha fatto a fine ottobre in Turchia, presso il Palazzo Presidenziale di Ankara, in un concerto al quale ha partecipato tra il pubblico anche il capo di Stato turco Erdogan insieme ad altri membri del governo. Alla fine dell'esibizione il presidente turco è salito sul palco ed è stato fotografato proprio insieme a Stevens, che poi ha adottato il nome di Yusuf Islam dopo la conversione alla religione islamica alla fine degli anni 70. Prima di Ankara il cantante britannico aveva suonato il 19 ottobre ad Istanbul nel suo primo concerto in cinque anni. Durante un'intervista con l'agenzia Anadolu, Kat Stevens, ha affermato che i proventi dei suoi concerti in Turchia saranno tutti donati al progetto Peace Train, un'iniziativa della Yusuf Islam Foundation. Provo a nutrire gli affamati attraverso questa iniziativa che si basa sul detto del profeta Maometto, sfama la gente e diffondi la pace. Come si può avere la pace però se si affamati? Chiede appunto il cantante nell'intervista. Del resto l'impegno di Kat Stevens a livello sociale non è una novità. Lui che all'anagrafe era Steven Demetre Georgiou dal 1995 invece conosciuto anche come Yusuf Islam o Yusuf, nato a Londra, poi autoconsiderato su un po' cittadino del mondo e non nuovo a prese di posizione, non solo nel nome d'arte, cheppure gli è costato non pochi problemi. Ad esempio nel 2004 è finito al centro di una bufera mediatica e burocratica quando gli è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti perché suo nome era nella lista degli indesiderati dopo gli eventi dell'11 settembre del 2001. Oggi Yusuf Islam vive a Londra con sua moglie e cinque figli. Ha fondato varie associazioni benefiche come anche Muslim Aid e Small Kidness per assistere le vittime della carestia in Africa. Inoltre il cantante ha donato anche parte delle royalties del suo box set statunitense del 2001 appunto al fondo per le vittime degli attentati alle Twin Towers. Quanto invece all'attività musicale a distanza di tre anni dall'ultima pubblicazione ufficiale, il 18 settembre del 2020, ecco che è tornato con un disco celebrativo del cinquantesimo anniversario di T. For Tillerman Wild World, proprio era la terza estratta da quel disco. Scritta nel 1970, poi uscita un anno dopo, periodo durante il quale Stephen ebbe una relazione con Patty Durbanville, una modella americana che fu per il cantante anche fonte di ispirazione per questo brano e per la canzone Lady Durbanville, contenuta nel terzo album del cantante. Pubblicato come singolo proprio nel tardo 1970, il brano rappresentò il primo grande successo in classifica per Cat Stevens, arrivando alla posizione numero 11 della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti. E allora ascoltiamolo insieme!